Come fare badilati di soldi in pochi minuti senza cambiare una virgola del prodotto che stai vendendo? Ci sono due situazioni che in questo momento potresti vivere. La prima situazione è che purtroppo non hai il controllo delle tue entrate. Quando non hai il controllo delle tue entrate è quando magari sei un dipendente, perché effettivamente non puoi decidere quanti soldi tu debba guadagnare alla fine del mese e non hai il termometro del denaro che puoi ovviamente girare a tuo piacimento. Quindi qualora questa dovesse essere la tua situazione, mi dispiace, ma non penso che questo video possa aiutarti. Tuttavia all'interno del mio canale YouTube puoi trovare un sacco di contenuti che ti aiutano sostanzialmente a lanciare magari il tuo primo business oppure a creare la tua prima idea oppure presentarti come un professionista con svariate skills. Invece la seconda situazione è che magari stai già vendendo qualcosa, ok? Quindi stai già vendendo qualcosa, quindi un prodotto, magari un servizio e la stai vendendo ad un determinato prezzo. Il metodo che ti chiedo ovviamente di provare di testare sin da subito per fare badilati di soldi senza cambiare una virgola del prodotto che stai vendendo e questo. Ipotizziamo che in questo momento tu stia vendendo magari a 500 euro e stai magari vendendo un servizio di consulenza oppure un programma di formazione, oppure un videocorso, oppure stai vendendo, che ne so, prendi questa cosa qua e comincia a fare questo esercizio mentale che ti aiuterà a strecciare sempre di più quelli che sono i tuoi limiti. Voglio che moltiplichi per 10 il prezzo a cui stai vendendo. In questo momento sì, quanto fa? 5.000 euro, perfetto. Immediatamente la tua testa ti inizia a dire io non sono in grado di vendere a 5.000 euro questa cosa. Perché non sei in grado di vendere a 5.000 euro questa cosa che stai vendendo in questo momento a 500 euro? Perché probabilmente la tua testa ti dice che non vale 5.000 euro quello che stai cercando di vendere. Quindi quello che ti voglio invitare a fare è non solo moltiplicare per 10 quello che è il prezzo a cui stai vendendo il corso, il servizio in questo momento, ma a rispondere a questa domanda. qualora io dovessi farlo pagare per 50 rispetto a quanto lo sto facendo pagare adesso, quali sono le cose che dovrei fare per giustificare agli occhi del mio cliente questo valore e questo prezzo? Comincia a metterti giù queste cose e comincia a capire in che modo puoi strecciare il valore percepito che l'utente può ricevere dall'altra parte ed è felice di aver pagato quello che magari gli hai chiesto. Ti assicuro che vendere quello che stai vendendo adesso a 10 volte tanto non è così difficile, è molto semplice. La realtà dei fatti è in che modo puoi aumentare e hackerare tra virgolette il valore percettivo che il tuo cliente finale ha nel momento in cui vede il tuo prodotto e il tuo servizio. Ora, ci sono dei trucchetti che ovviamente puoi utilizzare. Ok, questi trucchetti sono trucchetti assolutamente etici che sono utilizzati da tutte le multinazionali in giro per il mondo. Puoi farlo anche tu. Ti dico semplicemente in che modo puoi farlo. Allora, riprendiamo l'esempio del corso che magari stai vendendo a 500 euro. In che modo posso aggiungere un'altra fascia di prezzo e poi un'altra fascia di prezzo? Allora, l'ideale sarebbe qualsiasi cosa tu stia vendendo avere per forza qualcosa che costa di più. Quindi se stai vendendo in questo momento a 500 euro nulla ti vieta di aggiungere una nuova fascia di prezzo a 5.000 oppure a 2.000, 2.500 ma devi aumentare, strecciare il tuo prezzo e in che modo puoi andare ad ancorare il valore di quello che vendi al prezzo più alto che hai in questo momento. Sì, perché in questo momento tu hai due scelte. Puoi decidere di vendere a 500 euro quello che stai vendendo accontentandoli magari di avere margini bassi e problemi di acquisizione clienti. Rischi magari di trovarti a fare il mondo per persone che ti pagano veramente poco o che comunque ti permettono di trattenere poco in termini di profitto e questo è un problema lungo andare. Oppure puoi andare ad aggiungere qualcosa che costa di più. E quel qualcosa che costa di più ti aiuterà non solo ad aumentare i prezzi a livello generale della tua azienda o della tua attività ma ti aiuterà anche tendenzialmente a fare in modo che l'utente venga veicolato nella fascia di prezzo che prediligi tu, quella che vorresti tu. Ipotesi. Quando tu vai al cinema hai visto tantissime volte, no? Ci sono i popcorn piccoli, medi e grandi. Generalmente il popcorn piccolo è semplicemente il prezzo civettina. Quindi io ho il popcorn piccolo magari a 2,90€ poi ho il popcorn grande a 8€. Ipotizziamo 2,90€ popcorn piccolo popcorn grande 8,90€. Ora, nel momento in cui io ho solo questi due prezzi indubbiamente la maggior parte delle persone si fionderà sul prezzo più basso e poche persone si fionderanno sul prezzo da 8,90€ grande. Ma cosa succede se io vado ad inserire un terzo prodotto? Io ho 2,90€ il popcorn piccolo 8,90€ il popcorn grande e poi ho il popcorn medio che posso decidere a quale fascia di prezzo metterlo sulla base di dove voglio veicolare i miei utenti a comprare. Quindi se io voglio che i miei utenti si focalizzino sul prodotto di mezzo benissimo, io metto un prezzo intermedio che sia più vicino rispetto ai 2,90€ e più lontano rispetto agli 8,90€. Se invece decido di prendere il prezzo medio e fare in modo che mi aiuti a vendere il popcorn grande da 8,90€ cosa farò? Metterò a 7,90€ il popcorn medio. Quindi io ho 2,90€, 7,90€, 8,90€. Quindi indubbiamente la maggior parte delle persone oltre quelle che ovviamente dicono no, 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 solo 2,90€ ok, ho fatto esempi così dove andranno? In quello in mezzo. Quindi tu hai aumentato di brutto quello che è il tuo margine. Quindi nel momento in cui io voglio vendere il prodotto prezzato a livello ovviamente più elevato devo spostare il prodotto di mezzo vicino il più possibile al prodotto ovviamente che costa di più. Quindi se io ho 8,90€ lo metto a 7,90€ per un euro in più cavolo, prendo quello grande. Quindi quello grande mi risulta un affare. Se io invece il prodotto di mezzo lo metto a 3,90€ indubbiamente il 2,90€ mi sembra una stupidaggine perché mi basta aggiungere un euro per prendere il prodotto centrale. Quindi il prodotto centrale ti aiuta a decidere dove vuoi che l'utente vada a comprare se il prodotto di mezzo oppure il prodotto che costa di più. Applica questa strategia all'interno del tuo business e ti assicuro che può veramente aiutarti non solo nel momento in cui tu cominci ad avere un prezzo elevato e magari mantieni sempre anche il prezzo magari a cui stai vendendo in questo momento facendo ovviamente meno cose. Che cosa puoi fare? Invece che presentare prima quello che è il prezzo più basso e poi a un certo punto dire guarda se vuoi c'è anche l'opzione premium da 5.000€? No, fai il contrario. Presenta prima l'opzione da 5.000€ e il tuo utente immediatamente ancora il tuo servizio, il tuo corso, il tuo prodotto a un qualcosa di altissimo livello. Per quale ragione? perché il prezzo determina già di per sé il valore intrinseco che il corso o ciò che tu stai vendendo ha perché nel momento in cui una persona sente un prezzo elevato rispetto alla maggior parte delle cose lì fuori disponibili la mente che è abituata ad andare velocemente e non avere attenzione invece si ferma un attimo e dice cazzo, questo costa di più quindi avrà qualcosa di speciale. Quello è il momento in cui hai catturato l'attenzione e il tuo prodotto prende a livello percettivo un valore impressionante rispetto a tutte le altre opzioni che ci sono sul mercato ma non solo questo ancora il tuo potenziale cliente a un prezzo per lavorare con te di 5.000€ questo cosa vuol dire? che nel momento in cui presenti qualcosa poi da 1.000 o da 500 boom! è un affare perché? perché sei partito con 5.000€ pensa a Tesla ad esempio Tesla è partita esattamente così Elon Musk non è uno stupido ha iniziato a tirare fuori il suo primo modello Tesla Rodster a 250.000 dollari a un certo punto ha tirato fuori la Model S a 120.000 a un certo punto ha tirato fuori la X insieme alla S e poi a un certo punto ha tirato fuori quella economica a 30.000 dollari ma i 30.000 dollari sembrano veramente pochi per una macchina perché? perché tutto è partito ed è stato ancorato a 250.000 dollari col primo prodotto venduto questo è un altro trucco che può aiutarti a guadagnare molti più soldi sin da subito applicalo fammi sapere qui nei commenti se ti è piaciuto se ti è servito se ti è stato utile ripeto non c'è nulla in vendita in questo momento quindi spero vivamente che questi contenuti possono aiutarti a fare più soldi così magari poi chi lo sa magari ci ritroveremo nel Mastermind insieme chi lo sa ci vediamo molto presto